Mi chouchou, eccomi tornata da voi. Oggi è l'anniversario della nascita di un regista russo che la vostra contessa adora, Andrei Tarkovsky. Mi commuovo mentre guardo i suoi film, mi commuovo per la tecnica fortemente evocativa dei colori, della fotografia, della camera fissa che aspetta, riflette, si mischia con i personaggi, li capisce. E' quella natura così amica, selvaggia perché libera, ma vera, unita all'uomo dall'acqua e nei luoghi più impensabili. Insomma, mesami, non posso fare a meno di guardare qualche pezzo di questo meraviglioso film mentre ve ne parlo, considerato comunque un'opera minore di Tarkovsky, Nostalgia, uscito nel 1983. La prima curiosità è che è il penultimo film dall'autore e artista. Succederà sacrificio e gli procede il ben più noto Stalker. La seconda curiosità è che è il primo film ambientato fuori dalla Russia, nella vostra bella Italia, precisamente. La storia è semplice. Bien, dire semplice quando si tratta di un film d'autore è un po' un esardo. Diciamo che il leitmotiv che muove le sottili fila di questa trama è la malinconia, la voglia di casa. Già dal titolo capiamo di essere di fronte a un'autobiografia velata di messaggi criptati. Lo stesso Tarkovsky, prima e durante le riprese di Nostalgia, è in Italia. Tornerà in patria due mesi dopo la fine delle riprese per lasciare di nuovo la Russia da esule. Il protagonista ha il suo nome, Andrei. È un poeta russo, ha una moglie e due figli, che ha lasciato in Russia. Insomma, nulla si scosta troppo dal vero Andrei. In questo clima nostalgico, in un'Italia affascinante, fatta di nebbi e di paesaggi dolci, di arte e di tradizioni antiche, di case natura, di monocromi, di icone e di suggestioni, Tarkovsky ci lascia entrare guardando il mondo da una finestra aperta. Ma da questa finestra entra pioggia, e la pioggia inonda tutto, seppure alla grazia di intonare la propria musica autentica e delicata. Il messaggio centrale in Nostalgia è quella scritta sul muro di Domenico. Uno più uno uguale uno. Una goccia più una goccia fa solo una goccia più grande. Ce ne convinciamo. E riprendiamo ogni volta il concetto per spiegare a noi stessi le immagini che si susseguono, etere e termetiche. Sarà anche l'opera minore, ma è un'ottima base di partenza alla scoperta di questo regista, qui già maturo e forse appunto nostalgico. Bien mes amis, questa volta il consiglio è di guardarlo in solitudine, appuntandovi le immagini fisse da dipinto impressionista. Ma per me non provate Nostalgia, tornerò presto. Alla prochaine fois, me bien ami.